La cattedrale di Fabriano, l'apoteca civica Bruno Maraioli Fabriano, la Fontana di Paolo Giovanni II Museo di Ocesano, Palazzo del Podestà, Piazza del Comune dall'alto, Il Corso della Repubblica Palazzo del Comune, Palazzo Vescovile, Fontana Stulinaldo, Piazza del Comune, Loggiano San Francesco, Palazzo del Podestà, Loggiano San Francesco, Piazza San Filippo, Chiesa di San Filippo, Piazza Martiri, Rubio, L'Ambrogio, I Consoli, i Chiostri, Il Palazzo Ducale, Palazzo Balzello, Palazzo dei Consoli, un saluto al Palazzo dei Consoli, un saluto anche al Palazzo Podestà, Natale e Rompia, il logico del Torrente, il logico del Torrente, il programico del Torrente, il logico del Torrente, il programico del Torrente che svetta? Chiesa di San Francesco su Piazza Martiri a Guglio ancora Piazza Martiri Piazza Giovanni 1 Piazza Bosone ora la guasifica il Santo Maria degli Angeli vicino ad Assisi